Spieghiamo oggi che cos'è il fruitness, è un tipo di fitness, di ginnastica naturale, adatto a tutti, semplice, alla portata veramente di qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi occasione, stiamo con amici, stiamo in macchina, stiamo in ufficio, possiamo utilizzarlo in qualsiasi momento della giornata. Ci sono diversi tipi di fruitness, uno di questi è il fruitness base, è quello che possono fare veramente tutti, dal bambino, l'adulto, l'anziano, adattissimo a tutti. Poi c'è quello che io, su cui mi sono perfezionato, che è lo Spartan fruitness, che è un allenamento molto, molto avanzato, che si basa su strumenti a volte organizzati come questi, o anelli, o sbarri naturali, o esercizi a corpo libero, comunque esercizi molto posanti. Questi sono i due tipi principali, ma ce ne sono altri. Per ora questa qui è la presentazione di base e tra poco vedrete anche degli esercizi particolari. Grazie.